Grazie, l'anno scorso il Pride dell'emozione a Reggio Quest'anno è il Pride del progetto, il Pride che va avanti, il Pride che è di Reggio una città europea, una città mediterranea proiettata verso il futuro per tutti Il Pride che si colloca a pochi mesi dall'approvazione del registro delle unioni civili Quindi grazie al Consiglio Comunale di Reggio Calabria che ha portato ancora una volta avanti una battaglia di civiltà per tutti E sono felice come calabrese che questo messaggio stia facendo della Calabria una regione più nuova, più moderna, più culturale E questo è un obiettivo che passa attraverso le battaglie per i diritti delle persone LGBT Una cosa sulle unioni civili, non aggiungo niente a quello che ha detto Flavio Romani Però questa legge sta tardando troppo e da troppi anni la stiamo aspettando E vedo che ancora oggi stiamo passando di rinvio a rinvio Allora, caro Renzi, hai saputo far approvare leggi popolari come la riforma sulla scuola Tira fuori le palle anche per la legge sulle unioni civili E sbattele in faccia a Giovannardi, a Lapiretti, a tutti i cattofascisti Che sono contro le nostre unioni, contro i nostri amori, contro i nostri diritti E un'ultima cosa Adesso voglio dire una cosa per la scuola C'è una crociata in fame fatta di menzogne Che sta impedendo che la scuola si organizzi per il rispetto degli alunni e dell'alunno omosessuali e transessuali Questa è una vergogna La scuola è complice, è responsabile dei suicidi, è responsabile degli atti di bullismo Allora io chiedo a quella parte laica della scuola Fate sentire la vostra voce Non state in silenzio Perché un giorno io vi chiamerò alla complicità dei nostri lutti e dei nostri dolori Basta con le sofferenze Noi non vogliamo essere più vittime Noi siamo orgogliosi di essere gay E questo Pride lo dimostra La città ha risposto Anche questo Pride è bellissimo Ma anche questo Pride ha un suo significato, un messaggio Ma sulla scuola chiedo da uomo di scuola per il mio percorso Io chiedo più forza, chiedo più visibilità della parte laica della scuola E perché se un giorno voi dovrete, un preside vi chiederà di bruciare i libri Di togliere i libri come ha fatto il sindaco di Venezia Ditegli con la vergogna che vogliamo andare avanti Che vogliamo uscire dal medioevo Che i ragazzi omosessuali, transessuali e lesbiche Hanno il diritto di essere tutelati Di essere felici Perché a casa loro i genitori si possono educare i figli come cazzo vogliono Ma la scuola deve essere per tutti E perché a casa loro i genitori si possono educare i figli come cazzo vogliono